Salve a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo video, un video speciale perché è per il concorso della Tana del Drago per i suoi 1000 iscritti, mi congratulo con loro. Allora, in questo video cosa vedremo? Beh, abbiamo fatto, come avete visto negli altri miei video, come iniziare la gilda dei maghi, dei compagni, dei ladri e compagnia bella. Oggi vedremo a Windelm, sì, qui andando dentro, mi viene il nome, l'azienda, la casa Aretino, la Ratino, come si chiama, qui vedremo quindi come entrare nella confraternita oscura, che mi è stato chiesto di realizzare questo video e ve lo sto facendo vedere come entrare. Allora, innanzitutto vi dico che appena voi arriverete qui per la prima volta, vedrete questo elfo oscuro che parla con questo bambino. Allora, voi aspettate che finiscano di parlare, state qui, aspettate, per poi entrare nel... no, l'azienda... no, edificio... Non mi ricordo il nome della casa. Va bene, non fa niente. Questo video vi farò vedere innanzitutto come proprio arrivare, iniziare a fare le missioni per la confraternita oscura. Allora, come primo obiettivo, noi dovremo entrare in questa casa, non mi viene il nome, non è azienda. Va bene, lasciamo stare. Allora, qui... ah, residenza, residenza. Ok, entreremo qui scassinando la serratura, tanto è semplice, basilare. E qui troveremo un bambino che... vi consiglio di non imitarlo, lui è uno specialista, sa quello che fa, è il suo mestiere. Sta facendo un rito. Un rito, come state vedendo, sta cercando di evocare un qualcosa e pensa che siamo noi la persona che sta cercando di evocare. Quindi, dopo averci parlato due o tre secondi, vi dirà di andare a Riften per completare, per uccidere una vecchia signora. Questa vecchia signora, perché la dovete uccidere? Beh, è frusta i bambini. No, scherzo, vabbè. Se volete, sentite come che parla il bambino e vedrete poi cosa fare. Tanto verrà tutto segnato sulla mappa, ogni minimo particolare. Allora, una volta finito di parlare con questo, ora vi farò vedere, ci dirigiamo insieme a Riften, però la missione non ve la faccio vedere, perché la fate voi senza... Io l'ho fatta, però non l'ho registrata. Quel pezzo non l'ho registrato. Poi, una volta finito ciò, dirigetevi di nuovo da lui e vi darà un premio, un oggetto fortissimo. Non è vero, vi darà un piatto della sua residenza, un piatto. Se ve lo mettete in casa, come addobbo, come souvenir di aver fatto questa missione, beh, ora voi vi starete chiedendo come fa allora? Ora che dobbiamo fare? Dovete aspettare che arriva colui, questo. Aspettate due o tre secondi e arriva un messaggero. Non è che dovete aspettare due o tre secondi. Intanto vi sto facendo vedere qui dovete entrare e completare e uccidere la signora. E poi tornate dal ragazzino e finirà la missione. Poi aspettate due o tre giorni e arriverà un mercante, eh sì, un mercante, scusate, un messaggero. Vi consiglio di trovarvi in città in modo tale che arriva prima. Fate passare due o tre giorni e poi arriva il messaggero. Questo messaggero vi darà, vi darà, scusate, un messaggio, un, sì, diciamo, un fogliettino con sopra una mano. Identica quasi alle mani del signore dei anelli, dei Yurukai, uguale. Dai sì, diciamo, uguale, solo perché non è bianca ma è nera qui. Ora vi faccio vedere se riesco dal primo messaggio. Eccolo qui, lo sappiamo. Lo sappiamo, basta, questo è il messaggio. Ora, cosa dovete fare con questo messaggio? Non lo dovete... Buttatelo pure, tanto non cambierà nulla. L'importante è che dovete andare a dormire ora. Il vostro scopo, l'obiettivo vostro è andare a dormire, anche se giorno andate a dormire. E vi mettete qui e dormite uno, due, tre ore. Perché l'importante è che vi sveglierete nella casa... Aspetta, guardate. Ecco qui. All'improvviso vi sveglierete storditi, che vi hanno derubato, vi hanno portato nella casa del grande fratello. Eccola qui, in questa casa, dai. E il ninja lì sopra, l'assassino lì sopra, vi chiederà di uccidere, vi vuole vedere all'azione, vi dirà di uccidere uno tra i tre personaggi, dei tre nominati, che ora vi farò vedere. Ne dovete scegliere uno e uccidetelo, tranquillamente, con qualsiasi arma, coltello, spada, arco, quello che sia. E quindi, ora vi farò vedere. Poi qua, voi sentirete voi, volete sentire tutto, c'è la storia, ma ve lo consiglio, altrimenti che senso, potete prendere, mettere muto al televisore, tranquillamente. Se non avete voglia di sentire. E quindi, poi, una volta fatto ciò, vi dirà di raggiungere il, no, l'altare, il, vabbè, la loro base, il loro nascondiglio. Bene, scusate, ma qui il dialogo è lungo, dovevo tagliarlo questo pezzo e velocizzarlo, però, poi ho detto, no, dai, ci teniamo un po' compagnia. Ecco, ora qui, voi dovete accettare, ho detto, ok, no, non c'è nessun problema. E non cambia, eh, potete scegliere quello che volete tra i nemici, che volete, nemici, tre personaggi. Ecco qui. Dovete uccidere uno tra questi. Quindi, il concorrente, che deve abbandonare la casa, è, tu no, tu no, tu. Poi, tornate da lei, ci ritornate, e vi dirà, quindi, di raggiungere il, la, la base, della concorrente. Confraternita Oscura. E la raggiungete, e si trova, a, alla città che sta sotto, nella mappa Falcrat, non mi ricordo bene. Beh, inizia con la F, quello ne sono sicuro. Uscite, e andate qui. Ora vi faccio vedere subito sulla mappa, non vi preoccupate. Ecco qui. Eccola qui. No, appena arriverete in questa città, eh, delle guardie vi verranno vicino, e, e, vi diranno se avete visto un cane. Voi dite di no, e vi partirà subito una missione, che è una missione per un artefatto da Edrico, quindi, vi consiglio di farla. Io quel video non lo potrò mai fare, perché il Fabbro è morto, quindi mi dice di andare da lui, ma c'è un cadavere, quindi non posso parlare con lui, quindi non so veramente come fare a resuscitarlo, ma non si risveglia. Sta lì, buttato, nudo, senza nessun tipo di vestito, in mezzo alle foglie, l'avrà ucciso qualcuno, qualche drago. Non è vero, l'ho ucciso io, per sbaglio, in una missione l'ho preso e l'ho ucciso, perché mi andavo ad ucciderlo, e quindi, non sapendo però che mi serviva per questa missione. Quindi quella missione non ve la potrò mai far vedere. Va bene, qui, è inquietante la, le parole che vi dirà dopo, ma il video è finito, e ciao ragazzi, ci vediamo, dai, al prossimo video, sì, ciao.